Pasquale Maiorino è il nuovo calciatore della Virtus Francavilla. Dopo gli intoppi burocratici legati alla fideiussione del Livorno, la società biancazzurra ha raggiunto l'accordo con tutte le parti in causa e ha finalmente portato a casa il colpo studiato e inseguito a lungo dopo la partenza di Leonardo Perez. Proprio pochi istanti fa è arrivata la firma sul contratto che legherà il fantasista Tarantino al club del presidente Antonio Magri per le prossime due stagioni e mezzo. Per Maiorino si tratta di un ritorno al Giovanni Paolo II dopo l'esperienza del 2007 in eccellenza con distante presidente, un colpo che fa esultare un'intera piazza, infibrillazione fin dal primo momento in cui si era sparsa la voce di un possibile ritorno del 31enne in città. Per lui è pronta la maglia numero 10, adesso si attende soltanto l'ufficialità, Maiorino torna a Francavilla Fontana, questa volta da talento purissimo e calciatore consacrato. Toccherà al suo estro e alla sua fantasia provare a trascinare ancora una volta i playoff la formazione di Trocini, il calciatore già ruolabile e quindi convocabile per la trasferta di Bari in programma domenica.